Buongiorno amici trader e bentornati per una nuova puntata con l'analisi tecnica di finanza online. Oggi partenza con lieve segno più per piazza affari che esuce di ben sette settimane di rialzi nelle ultime otto. Questa settimana occhi puntati sulla riunione di politica monetaria della BCE in programma mercoledì e l'avvio della nuova stagione trimestrale USA che partirà venerdì. Oggi come sempre parleremo di Fuzzi Mib e iniziano insieme altri due indici S&P 500 e l'Eurostoxx 50. Oggi il Fuzzi Mib ha avviato la prima seduta della settimana in rialzo dello 0,3% in area 21.800 punti, proseguendo così l'intonazione positiva della scorsa settimana in cui ha guadagnato oltre l'1%, fallendo però nuovamente il tentativo di raggiungere i 22.000 punti. Nel complesso il quadro grafico dell'inzio italiano è rimane sostanzialmente uguale a quello dell'ultima ottava e quindi positivo. Grande prova di forza nella seduta di lunedì scorso per il Fuzzi Mib che è riuscito a rompere il livello dei 21.483 punti e ti proseguire il rialzo, lontanandosi dalla trendline rialzista di medio periodo, costruita sui minimi dicembre 2018 e febbraio 2019. Dal punto di vista grafico, il superamento dei 22.000 punti aprirebbe la strada verso il successivo target in area 22.200 e poi addirittura 22.500 punti. Un primo segnale di bassista si avrebbe invece con la rottura dei 21.483 punti con i primi supporti che si collocano a 21.122 e 21.000 punti. Scopri certifica e televa fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it L'S&P 500 ha chiuso la seduta di venerdì in rialzo dello 0,5%, archiviando così le ultime cinque sedute con un guadagno vicino all'1%. L'indice americano a fine marzo ha effettuato il pullback su supporto statico collocato a 2.796 punti, per poi ripartire a rialzo e fermarsi venerdì poco al di sotto dei 2.900 punti. I massimi sono ormai vicini, a meno di un 2%. Il grafico rimane impostato positivamente anche se si nota un affievolirsi dei volumi dopo il pullback della volatilità. Molto probabile ormai il test dei massimi storici a 2.940,91 punti. Da notare anche l'oscillatore RSI che non riesce ad andare in e per comprato ma non mostra ancora divergenze significative sul prezzo. In caso di break di 2.940 punti l'S&P 500 proseguirebbe verso i 3.000 punti. Un ritorno invece verso 2.696 non dovrebbe spaventare. Solo la rottura di tale livello della media mobile a 200 periodi darebbe le prime indicazioni di correzione più profonda. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiamo il numero verde 800 01 11 22. Oggi l'Eurostox 50 parte in lieve flessione dello 0,2% in area 3.440 punti. Redice di un guadagno di circa il 2% messo a segno nelle ultime 5 sedute. Nella scorsa ottava anche l'indice europeo ha mostrato i muscoli e ha infratto con forza la resistenza statica collocata a 3.400 punti che rappresenta anche il ritracciamento di fibonacci del 61,8% del downtrend avviato nella scorsa metà del 2018. Un segnale importante in quanto il break del 61,8% determina di fatto la fine del Meyer Market. Ora i corsi puntano a 3.500 punti, livello di resistenza piuttosto importante. Vedremo se i corsi poi avranno forza per proseguire verso 3.600 punti o prenderanno una pausa. Da monitorare infine l'oscillatore RSI che ci potrebbe dare informazioni importanti al riguardo nelle prossime sedute.